ciao belle gente bentornati nel mio canale eccoci volevo fare la decorazione natalizia nelle mie unghie e quindi ho deciso di farvi il video mi dispiace che non è stato molto molto chiaro perché ho posizionato la lampada secondo me al contrario la prossima volta la metterò meglio però comunque voglio raccontarvi che la mia esperienza è in generale in generale qua in spania mentre vi spiego come preparo le mie unghie prima di tutto l'emo bene le unghie e poi ci metto il primer dopodiché metto il base la base la lascio passare nella lampada e comincio con la decorazione delle mie unghie il video precedente ecco cominciamo col racconto uomini donne a valenzia allora la storia è molto complicata non so la situazione in italia io sono sei anni che vivo qua a valenzia quindi non so e poi sinceramente ero fidanzata non sono una che le importa più di tanto dopodiché adesso io sono all'incirca un anno e mezzo che sono singola all'inizio non mi interessava assolutamente conoscere persone nuove però negli ultimi tre mesi ho deciso di mettermi in gioco un'altra volta sto meglio sono pronta spiritualmente mentalmente da una nuova relazione e quindi ho detto vabbè vediamo cosa offre il mercato cosa offre il mercato zero assoluto perché la mentalità di qua è completamente diversa da quella italiana perché perché tanti pensano italia spagna sono simili sono latini sono simili non è vero assolutamente perché l'uomo italiano anche se mi dicono che non è più così e l'uomo italiano è corteggiatura corteggiatore di natura quindi ci prova al massimo le dici di no capisci e qua no qua nessuno ci prova assolutamente neanche per caso né quando va in discoteca né quando va in giro né nessuno che ti ferma ti fa un complimento o qualcuno o perlomeno dici vabbè sei una bella ragazza mi piacerebbe conoscerti zero assoluto zero assoluto sui social idem cioè io non mi arrivano richiesti non mi arrivano commenti non mi arriva assolutamente nulla perché ho capito dopo il motivo che qua c'è questa storia del del femminismo e c'è questa storia anche della violenza contro le donne quindi i uomini hanno paura di affrontarsi con le ragazze perché hanno paura di essere accusati per essere accusatori quindi molto 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 difficile l'italiano invece se ne sbatte proprio al massimo dice vabbè mi dice di no fa niente ci provano qua ragazze ragazze le ragazze che hanno l'intenzione di dire vado in spagna per lo meno a valencia perché mi hanno detto che a madrid non è così e a al sud più al sud tipo si via questa zona qua non è così però a valencia valencia città capitale è così in assoluto da una parte è un bene perché nessuno ti disturba nella tua quotidianità dall'altra parte non batte un chiodo manco manco per caso perché non c'è quella possibilità ma anche dice vai in discoteca con gli amiche qualcuno si avvicina assolutamente no zero assoluto io vado anche a ballare salsa e baciata la cosa che mi piace qua io quando andavo a ballare salsa baciata sinceramente in italia mi sentivo molto a disagio perché le persone invadono realmente il tuo spazio cercano di stringerti di più da fastidio e qua invece no sono molto rispettosi molto gentili si balla a distanza ma questa cosa l'apprezzo tantissimo ma comunque anche se balli difficile che qualcuno ti chiede come ti chiami cosa fai chi sei no si balla finito il ballo si saluta se ringrazia finisci lì per quanto mi riguarda come donna invece come uomo qua in spagna guarda spagna in valenza guarda tutte sono tue perché perché qua l'uomo è più tacanio io parlo della mia esperienza totalmente personale ok è più tacanio e qua al fatto che ti invita a uscire ti inviterà un caffè e che la garazza se lo paga capisci c'è proprio l'essere galante l'essere cavaliere qua ne trovi pochi ci sono per carità di dio però ne trovi veramente pochi invece l'italiano in sé è uno che invita uno che ti porta fuori uno che ti porta cena uno che ti porta i fiori una che uno che non ti azzardi neanche di pagare anche se siete solamente amici ma figurati se ti fa pagare che questa cosa qua è molto bella vista bene da un italiano vista male da una ragazza spagnola perché può c'è la possibilità allora da una parte c'è la possibilità che lo pensa male nel senso qua le ragazze hanno l'idea che sono una donna sono capace posso pagarmilo ok però nell'altra parte quando un italiano si lancia a fare queste cose le ragazze di qua la apprezzano e vedono cavolo c'è ho trovato il principe azzurro infatti qua i ragazzi trovano il paradiso perché le ragazze sono molto più disponibile e la ragazza che cerca il ragazzo nel senso se vede un ragazzo che le piace lei è più capace nel senso più emancipata su questo che va e dire senti mi piace ti piacerebbe uscire con me che in italia quasi un tabù fare una cosa del genere io non lo potrei mai fare non me la sento piuttosto mi taglio le vene mi faccio su ora assolutamente o io la vedo magari sbagliato la vedo come un amor proprio non ce la posso fare sono abituata così non non vedo il motivo per cambiare non so voi come come la vivete in italia comunque se la vivete in una maniera completamente diversa o la situazione è peggio fattimelo sapere invece per quanto riguarda le applicazioni come in italia ci sono di tutti di più io uso da poco mi sono scritta il dating di facebook qualcuno si può conoscere non ho ancora visto non sono uscita con nessuno però ho visto più o meno che c'è la possibilità di vedere qualcosa di fattibile invece l'applicazione che uso è quella di bumble è poco famosa è poco conosciuta ci è poca gente per fortuna e riesce a conoscere persone interessanti io per il momento avevo conosciuto delle persone davvero interessanti non è andata avanti va bene così però comunque offre questa possibilità di conoscere persone perché comunque badù tinder sono troppo espliciti poi la gente sai cercano una cosa sola e per conoscere persone più meno comuni io preferisco bumble sinceramente comunque gente spero che vi è piaciuto le unghie che ho fatto che sono spettacolare perché ho meschiato tra il proprio la rullo bianco e nero il rosso il dorato e questo color beige chiaro che mi piace tantissimo e tra la mia storia esperienza qua a valenza per quanto riguarda l'amore che non entra manco da nessuna parte comunque se vi piace mi raccomando lasciatemi un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e se vi interessa posso raccontarvi un po delle mie delle mie esperienze generiche qua a valenza io vivo leggermente fuori valenza perché comunque la vita è diventata più cara lo so che anche in italia però qua davvero è diventata cara quasi il 40 per cento in più confronto a tre quattro anni fa e quindi diventa davvero complicato trovare un affitto a valenza la cosa più complicata che sapendo che il maggior parte degli affittuari sono scottati perché tanti non pagano l'affitto tanti le lasciano la casa un disastro non affittano chiunque io ci ho messo praticamente più di tre mesi alla ricerca di una casa e non mi accettavano perché io avevo solo una busta paga preferiscono delle persone che hanno ad esempio due buste paga una famiglia o hanno i bambini hanno più stabilità e piuttosto che una persona sola perché già il fatto che diceva beh è una straniera e che prende se ne va e o il fatto che dice se non paga e se ne va e lo capisco però è complicatissimo infatti io questa casa che ho trovato che non è che una gioiello di casa però quello che sono riuscita a trovare addirittura il ragazzo dell'agenzia quasi piangevole senti per favore perché io sennò veramente mi rimango rimango senza casa e lui ha garantito per me per la propria alla proprietaria io vivo con i miei animaletti anche se c'è la possibilità di condividere un appartamento a Valencia sinceramente non mi andava di condividere anche se era una idea all'inizio fattibile però dopo capisco io ce la faccio faccio fatica a tollerare me stessa figuriamoci condividere una casa con una persona estranea sia uomo che donna estranea che non conosco non conosco l'abitudine non conosco la forma di vivere poi ognuno vive la casa e la tranquillità in maniera differente a me sono amante del silenzio la tranquillità mi piace averla a casa un certo ordine con un certo criterio magari l'altra persona non gli piace così quindi diventa un conflitto e non è proprio bello fai fatica a convivere con la propria famiglia figuriamoci con una persona estranea però comunque è una cosa fattibile perché comunque ci sono tanti che condividono a parte sono adulti o lavorano non è che per forza deve condividere la casa con dei studenti però comunque è una cosa fattibile per chi vuole trasferirsi qua a Valencia se volete più informazione volete delle delle cose più dettagliate fatemelo sapere sono alla vostra disposizione spero che vi sono piaciuti i miei unghie e spero che vi sono piaciuti i miei racconti bella gente mi raccomando se vi piace lasciate un like iscrivetevi al canale attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità e mi raccomando ci vediamo domenica io pubblico comunque anche se è natale pubblicherò il mio video vi voglio un mondo di bene grazie per il sostegno ciao alla prossima ciao